Gentili telespettatori, buona giornata. Nuovo scontro tra Saviano, Salvini e anche la Meloni, perché Saviano parla di quei due, la coppia, quei due, quei due chi sono? I leader del centrodestra, Salvini è capo della Lega e Giorgia Meloni capo di Fratelli d'Italia. Roberto Saviano racconta questo, si parla di un'Europa più inclusiva, però non è certo tirando in ballo la religione che, cioè lo scontro addirittura arrivare sulla religione mi sembra eccessivo, nel senso io direi limitatevi cari politici, cari scrittori, limitatevi a parlare di politica, di economia, lasciate perdere altre cose. Allora, dice così, Matteo Salvini e Giorgia Meloni parlano di triste teatrino in Europa, dove si mette in ballo anche la religione. Salvini dice, ma è possibile che certa gente non riesca neanche a rispettare il santo Natale? Non è una provocazione, dice Salvini, è un vergognoso insulto. Dice beh, lasciate stare il Natale, lasciate stare... avete visto poi l'altro giorno la circolare interna dell'Europa che diceva che è meglio sostituire la parola Natale con il termine festività. Molti di sinistra hanno commentato sotto il mio video, ma tu non sai neanche di quello che parli, ma l'hai letta, ma l'hai letta. Cari uomini e donne di sinistra, tranquilli, vivete tranquilli. Come diceva Salvini, prendetevi una tisana, rilassatevi, guardatevi il Maurizio Costanzo Show, consigli per gli acquisti, boni, boni, tranquilli, rilassatevi. Chi non bisogna commentare i video senza averli visti o avendo visto i primi dieci secondi, no? Bisogna commentare i video dopo che uno l'ha visto tutto il video, perché molto spesso per capirne il senso, bisogna vederlo tutto. Se tu vedi i venti secondi non sai esattamente quello che sto dicendo nel video, è una parte. La circolare europea era una circolare interna, quindi era una circolare che diceva come parlare all'interno delle istituzioni europee. Quella sta circolare, non è che diceva in Europa è vietato, non dite più la parola Natale. Ecco, solo che uno superficialmente, leggendo il titolo o magari ascoltando i primi venti secondi, subito commenta stizzito, ma tu l'hai letta la circolare, ma tu non sai neanche... Ma rilassatevi, rilassatevi. E come quello... Vi racconto questa. E come quello che ieri, ogni tanto vado a vedere i commenti per cancellare, inibire dal commentare di nuovo i classici odiatori da tastiera, che ovviamente chiunque ha un po' di visibilità in internet ce li ha. Come diceva uno di voi, guarda professore che anche se parli di formaggio svizzero avrai gli odiatori da tastiera. Nessuno è esente da odiatori da tastiera. Anche uno che parla della vernice per pitturare un mobile avrà i suoi odiatori da tastiera. Perché l'odiatore da tastiera poi è tutto un discorso che abbiamo fatto tante volte. Ma uno scriveva, tu che dici di essere un professore universitario, ma di te non c'è traccia da nessuna parte. Dove? A contratto? A progetto? In quale università? Tu che stai praticamente raccontando falsamente di essere un professore universitario, che cosa ha fatto questo signore qua? Ha cercato su Google Luca Vincitore. E su Google c'è scritto professore universitario, collaboratore della RAI, bla 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 bla. E lui dice ma magari è andato a cercare in qualche università, nel senso mettendo Luca Vincitore professore italiano universitario, non viene fuori niente. Ma se questo signore avesse letto nelle informazioni del canale e se avesse letto nelle informazioni di ogni video c'è scritto che io insegno all'università statale economia e commercio, o meglio economia internazionale, in scienze politiche in Messico sei mesi all'anno, come anche ho la cattedra di italiano nella facoltà di filosofia e lettere e nella facoltà di arte. C'è scritto, è lì. Però lui subito sentenziava questo finto professore. Ovviamente l'odiatore da tastiera principalmente non piace quello che io dico. Io odio quelli che parlano di destra, di centrodestra. Poi l'odio sale quando poi non sai, tu vedi un mio video, non sai come ribattere, parli delle sciocchezze che può dire questo o quel politico. Io parlo dei poltronari 5 stelle, parlo del PD scatola vuota, parlo di Conte che è una persona secondo me tra le più false che ci siano in politica, oppure vi dico che Salvini è una banderuola. Insomma io ce ne ho un po' per tutti. Allora intervengono i tifosi di questi politici, gli monta sull'odio e allora vanno a cercare questo fantomatico professore universitario e la loro superficiale ricerca non dà frutti. allora tu che villanti di essere un millantatore. Ecco tranquilli, rilassatevi, rilassatevi. E così vi raccontavo che tornando a Salvini che dice ma lasciate perdere il Natale, ma Saviano dice quei due là, Salvini e Meloni, tra Gesù ed Erode avrebbero senz'altro parteggiato per Erode, due che non hanno alcuna pietà per coloro i quali scappano dalle persecuzioni, due il cui disprezzo si spinge al punto da negare ogni possibilità ai salvataggi in mare. Tutto falso ovviamente, Salvini e Meloni che negano i salvataggi in mare, questa è una bugia. E poi dice Gesù nasce da due genitori profughi che per metterlo in salvo scappano via dalla loro terra e clandestini entrano in Egitto. Poi andremo a vedere la replica di Matteo Salvini in un altro video perché realmente ogni tanto comincio a parlare e non finisco più, i video diventano troppo lunghi. Ve lo racconto nel prossimo video. Arrivederci a tutti.